Ciao a tutti ragazzi appassionati di Motori, oggi siamo qui finalmente in questo nuovissimo video sul canale Questo sarà un video veramente molto corto ma che sicuramente interesserà moltissimi di voi Infatti tramite questo video vi darò la possibilità di vincere un casco Premier della serie Exige Infatti Premier pochissimi giorni fa mi ha contattato dandomi la possibilità di partecipare a un contest Il quale vi dà la possibilità di vincere un casco Premier della serie Exige Il contest in questione sarà collegato direttamente al mio account Instagram E per partecipare a questo contest ci saranno tre passaggi veramente molto semplici Il primo passaggio è quello di mettere mi piace a questo video E lasciare un commento qua sotto con scritto partecipo e il nome del vostro account di Instagram Il secondo passaggio da effettuare è quello di andare su Instagram e iniziare a seguirmi Trovate il link del mio account Instagram qua sotto in descrizione Il terzo e l'ultimo passaggio che dovrete effettuare è quello di andare a mettere mi piace alla foto del contest Ovvero questa foto qua che presenterà l'hashtag Eikma Premier Helmet Una volta effettuati tutti questi tre passaggi correttamente avrete la possibilità di aggiudicarvi un casco Premier della serie Exige Però ragazzi volevo specificare che più like lascerete alla foto più possibilità avrete di aggiudicarvi il casco In quanto Premier ha posto una condizione Infatti solamente alle foto che riceveranno più mi piace sarà consentito di cercare il casco per podarlo in premio a uno degli iscritti Quindi mi raccomando andateci giù pesante con i mi piace perché più like metterete più possibilità avrete di vincere il casco Inoltre sono tre passaggi veramente molto semplici e per partecipare al contest ci mettete veramente un minuto Prima di concludere il video vi volevo ricordare che domani sarò presente tutta la giornata ad Eikma In particolare alle 12 sarò allo stand Premier Quindi vi invito numerosissimi a venire alle 12 allo stand Premier Oltre a me ci saranno ovviamente anche altri YouTuber Una volta detto questo direi che il video possa concludersi Come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivete al canale Mi raccomando seguitemi su Instagram per partecipare al contest E noi ci rivediamo in un prossimo video Bella Ciao